Al via la distribuzione dei bonus a spesa. Completati i controlli sulle richieste pervenute al Comune di Arezzo per i voucher alimentari, è stata infatti stilata la lista dei beneficiari, consultabile con un semplice clic a questo indirizzo. Per motivi di privacy, i fruitori del sussidio compariranno con un numero ID e con un numero di protocollo della domanda. Basterà uno dei due codici per controllare se si ha diritto al voucher e l'importo destinato. Coloro che non hanno né il numero ID della domanda né il numero di protocollo possono chiamare lo 0575 37 77 77, lo 0575 37 71 79 o lo 0575 37 72 64. In alternativa è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 342 77 77 361 indicando nome e cognome, codice fiscale, mail personale, utilizzabile solo per un beneficiario dove ricevere i buoni spesa. Si può infine ancora inviare la richiesta per il bonus entro le 13 del 30 aprile, inviando un'email a protocolloetcomune.arezzo.it. I buoni sono dematerializzati e saranno inviati tramite mail o telefono. Si tratta di voucher in formato digitale che contengono un codice a barre. Per poterli utilizzare è sufficiente esibirli tramite telefono o tablet all'esercizio commerciale dove vengono spesi oppure possono essere stampati. Nei prossimi giorni infine verrà pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali in cui potranno essere utilizzati.